Buongiorno Davido, la puntata di ieri del Buongiornissimo, la puntata 142 non è venuta bene, non mi è piaciuta, è stata troppo lunga, troppo piena di cose, ho preso troppe news e le ho sviscerate pure troppo, ho letto troppi articoli, troppi dettagli, insomma, era troppo infarcita, è venuta a fare una cosa che non mi è piaciuta, insomma, quindi cercherò di cambiare oggi, farò qualcosa di un pochino più leggero e rilassato e più asciutto, insomma, spero che sia apprezzata. Ringrazio comunque tutti quelli che l'hanno guardata, almeno fino a un certo punto, perché si superava la mezz'ora e che non mi hanno insultato, quindi grazie e basta, quindi vi risparmio ulteriori, ulteriore roba nella intro e andrei direttamente, aspetta, due cose, due cosette, due appuntamentini, se vi interessa, insomma, il mondo della programmazione, immagino di sì, perché se mi seguite questo è il motivo. Domani sera alle 18, quindi mercoledì, mercoledì 8 novembre alle 18 sui canali YouTube e Twitch di Continuous Delivery, faremo una puntata speciale, una extra, una puntata full remote del podcastone di Continuous Delivery con Francesco Corti. E sarà un, insomma, un formato un pochino più chiacchierato, magari, ma alla fine non troppo diverso dal podcast normale, però, insomma, un pochino più relaxed. Ecco, saranno tutti in remoto, ci sarà con me Paolo, Paolo Mainardi, che torna. Finalmente ci sarà Stefano Mainardi, CEO di Spark Fabric, che torna dopo un bellissimo quantitativo di tempo, insomma, un bel po' di tempo, a deliziarci con la sua incredibile bellezza e competenza, naturalmente. E quindi faremo questa puntatona, se vi interessa, con il grandissimo Francesco Corti, che adesso è Product Manager in Docker. Ci vediamo domani sera alle 18. E un altro appuntamentino, però, live questa volta, dal vivo, se vi va, a Pescara il 18 di novembre, quindi sabato prossimo, non quello di questa settimana, ma quello della successiva. Ecco, a Pescara c'è la DevFest e quindi, se vi va, insomma, ci si vede lì. Io sarò lì in veste di speaker, quindi avrò un talk da fare, sarà anche un talk un po' particolare, quindi, se vedete il programma, insomma, capirete. Non sarà un talk tecnico, ma più, diciamo, un talk storico, con delle piccole note di fantasia, insomma, qualcosa di... che spero sia apprezzato, non lo so, un po' un esperimento. Se vi va, insomma, a Pescara, DevFest, il 18 novembre, ci si vede lì. Ho finito, andiamo con le news. Allora, ieri è stato il giorno di Angular. Ieri sera, in particolare, ora italiana 19, quindi alle 19 in Italia, c'è stato un evento su YouTube, che state vedendo in sottofondo, se guardate, di presentazione di nuove feature in Angular e anche di un nuovo logo, un piccolo rebranding, insomma, e non solo, anche di un nuovo portale di documentazione, quello che state vedendo in questo momento nel video proprio di ieri sera. Il video è stato confezionato così, aveva dei momenti pre-registrati e dei momenti invece fatti in presa diretta e erano tutti fatti con dei sviluppatori dell'Angular Core Team, che appunto illustravano ognuno la propria area di competenza. L'inizio si è focalizzato proprio sul nuovo portale di documentazione Angular.dev, che, diciamo, segue un po' la filosofia di React.dev, anche se non è mai stato menzionato, però funziona un po' così, cioè è diviso proprio per topic, per aree tematiche, e all'interno di queste ci sono sia dei classici tutorial su come realizzare delle cose, sia anche dei playground dove poter sperimentare con le API. Ovviamente ci sono le istruzioni dell'API e dei playground per sperimentare con le API. Questo intanto è il nuovo logo di Angular, per chi sta guardando. E questi playground sono fatti con web containers. Quindi, insomma, una struttura della documentazione che ricorda un po' quello appunto di React.dev, ma poi anche di altri moderni portali di documentazione, c'è da dire che Angular.io, che era la vecchia casa e rimarrà ancora per un po' della documentazione deprecata, insomma, diciamo, delle vecchie versioni di Angular, aveva bisogno di un bel refresh. Era uno dei punti deboli, diciamo, di Angular. La documentazione arriva, insomma, a questo nuovo progetto, a questo nuovo portale di documentazione tecnica che è un po' a svecchia e porta, insomma, una ventata di novità e di freschezza. E poi, naturalmente, ci sono tutte le nuove feature di Angular. Mi sono un po' sognato delle cose, quindi ve le racconto. C'è intanto una nuova sintassi nei template, questo è interessante, ma si era già saputo, era già trapelata, diciamo, questa roba, c'erano già stati degli articoli in merito, perché naturalmente Angular è un progetto open source, quindi si vede quali sono i commit sulla codebase. Insomma, c'è una nuova sintassi che invece dei classici blocchi nei template con, per chi conosce, ngif, ngfor, ngswitch, ora invece ci sono proprio dei blocchi che si possono scrivere, dei blocchi di codice che si possono scrivere dentro il template con la chiocciola, quindi at if è poi un blocco, un po' come succede in React anche qui, no? Cioè, if è poi un blocco da fare dentro la condizione, con addirittura else if e else, quindi è molto più semplice gestire le condizioni, insomma, di visualizzazione dei componenti dentro i template stessi, questa è una buona cosa. Sintassi che poi hanno confermato gli sviluppatori sarà compatibile comunque con le pipe, e in particolare con le async pipe, che sono, insomma, una feature molto potente per chi conosce gli angoli da template, rimane compatibile con la nuova sintassi. Poi naturalmente ci sono delle migliorie alla performance delle build, dell'hydration, un po' quello che succede dietro le quinte, tra l'altro la nuova build di default, quando si crea un progetto Angular, viene switchata e viene fatta con ESBuild e VIT, quindi c'è un po' un abbandono di webpack progressivo. Adesso viene, diciamo, diciamo che non è deprecato, però non viene abilitato di default nelle nuove progetti Angular, verrà probabilmente, l'hanno poi detto, deprecato nella versione prossima di Angular, quindi nella 18, e forse poi definitivamente eliminato e abbandonato dalla 19 in poi. Insomma, questo è un po' per quanto riguarda il dietro le quinte, e invece, cosa interessante a livello tecnico, probabilmente quella che mi ha più impressionato è la nuova direttiva DEFER, sempre da mettere dentro i template, si fa con AT DEFER, e consente di, appunto, fare il DEFER loading, quindi l'ESI loading di un pezzo, di un componente che viene aggiunto al template, a seconda di varie condizioni. Quindi mettendo in un blocco, circondando con un blocco DEFER un componente dentro il template di Angular, è possibile dire al framework, appunto, che quel componente verrà caricato più avanti, perché magari è un componente che ci mette molto a caricare, o sta facendo delle richieste in background, se ricordate anche qua il mondo React, magari Suspense vi può tornare utile come parallelo. Quindi con DEFER potete fare questo lazy loading di un componente, tra l'altro mettendo anche delle condizioni su quanto al massimo può aspettare, o quanto almeno deve aspettare, prima di caricare il componente, mettendo anche dei placeholder, come immagini, oppure anche delle GIF di loading, che sono molto utili, naturalmente per non sballare la interfaccia quando si deve caricare un pezzo, e per rendere anche più piacevole l'esperienza dell'utente. Quindi, che cos'altro mi sono segnato? Abbiamo il control flow, il conditional statement, li abbiamo detti. Ah, naturalmente, giusto, il server-side rendering. Adesso Universal, che era insomma il pacchetto che si occupava del server-side rendering in Angular, viene definitivamente accantonato, o meglio, viene inglobato all'interno dell'Angular CLI. Quindi, creando un'app Angular con, appunto, l'NG new, con la meno-meno SSR, questo include le feature di server-side rendering. Tra l'altro, c'è anche una static-side generation e una hybrid rendering con hydration, insomma, cose un pochino più tecniche, poi potete andare a vedere sul blog ufficiale di Angular, per vedere un po' meglio la cosa stona. Però, quello che c'è da sapere, in pratica, è che tutta l'esperienza di server-side rendering adesso viene switchata da Universal, al client, insomma, alla CLI ufficiale di Angular, quindi anche molto meglio supportata. E, tra l'altro, hanno fatto una cosa, secondo me, molto gradita, cioè hanno integrato ancora di più Angular con Firebase, che è un po' il modo per andare a monetizzare questi progetti, no? Banalmente, come fa Vercel con Next. Bene, adesso Google con Angular, cioè mettere insieme l'esperienza di Angular e di Firebase, in modo da poter deployare facilmente un progetto Angular su Firebase, veramente da command line con pochi comandi, avere anche le opzioni già per la server-side generation su Firebase o la static-side generation già preconfigurata su Firebase, ed ecco che si collega un progetto front-end, che invece è, scusate, un progetto back-end, che invece è monetizzabile, assolutamente per Google, ed ecco che c'è anche una motivazione di business decente per sostenere questo progetto. Quindi, il video dura un'oretta, potete guardarlo su YouTube, presenta un po' tutte queste cose. Diciamo che è una modalità di presentazione che è molto vicina a quella di presentazione dei prodotti e ci sta, essendo comunque Angular un prodotto, comunque un prodotto open source, è una cosa che segue un po' un trend di recente nel panorama dei front-end. Diciamo che il primo impatto è stato, forse qua bastava un blog post, però di fatto, anche vedendo la chat un po' molto partecipata, dell'Angular Community, ecco, questo tipo di eventi fa raccogliere attorno un po' di consensi, un po' di programmatori che arrivano, vedono cosa succede, commentano, insomma, rende anche un po' viva la community e quindi probabilmente ci sta. Non è neanche stato fatto in grande stile, tipo presentazione di Next.js di Vercel, è un pochino ridotto su YouTube e basta, insomma, questo è un po' quello che volevo dire su Angular, naturalmente, per tutti gli approfondimenti, blog ufficiale di Angular oppure guardatevi questo video su YouTube che naturalmente spiega un po', spiega ancora in maniera più approfondita quello che vi ho detto io. Oh, ma ieri non c'era solo la presentazione di Angular, c'è stato anche l'OpenAI Dev Day, quindi un evento, questa volta dal vivo sul palco, proprio realizzato da OpenAI, dedicato a nuovi sviluppi e proprio agli sviluppatori. Abbiamo un po' di cose segnate dal blog post, quindi è stata annunciata una nuova versione di GPT-4 chiamata GPT-4 Turbo, che ha un contesto da 128.000 finestre, quindi non so bene che cosa voglia dire, ma fondamentalmente puoi dare in input molte più pagine, molte più pagine in un prompt, ecco. È naturalmente più aggiornato a livello temporale, sapete che GPT-4 era aggiornato a 2021, settembre mi parla 2021, mentre GPT-4 Turbo è aggiornato a aprile 2023. E tra l'altro è molto più performante e ottimizzato. Questo vuol dire che consuma di meno e consumando di meno, OpenAI ha potuto ridurre il prezzo. Quindi se voi usate GPT-4 Turbo, nelle API naturalmente dovete essere dei clienti paganti di chat GPT Plus, ebbene con questo modello il costo delle chiamate API costa di meno, tre volte di meno per gli input token e due volte di meno per gli output token in confronto a GPT-4. Poi, altra novità, update sulla chiamata delle funzioni, sapete che nelle API, se voi chiamate le API di GPT-4, potete fargli eseguire delle funzioni, ebbene ci sono stati dei miglioramenti all'esecuzione di queste funzioni, per esempio la possibilità di concatenarle. Qua fa un esempio, apri il finestrino della macchina e spegni l'area condizionata. Queste sono due azioni che avrebbero richiesto due chiamate, invece qua in una singola chiamata si possono concatenare queste due azioni, che tra l'altro è molto più vicino al linguaggio umano. Questa roba qua era molto, secondo me è molto interessante. Poi abbiamo delle cose invece a livello di debugging, a livello tecnico, quindi possiamo passare un parametro seed, che ci permette di riprodurre un output che dovrebbe essere sempre lo stesso, cioè mantenendo lo stesso seed, l'output sarà riproducibile. Questo ci consentirà di fare del debugging o dei unit test magari, sugli output del modello. E in più abbiamo anche dei log probabilities, vengono chiamati, cioè ci viene detto con quale probabilità arriveranno gli output token. e questo ci consente di fare, secondo questa presentazione, delle feature come l'autocomplete, perché sapendo quali sono i token con più probabilità di comparire, ecco che potremmo implementare in un'app l'autocomplete mentre l'utente scrive, che anche questo, secondo me, non è male. Naturalmente, oltre a GPT 4 Turbo, è stato rilasciato anche GPT 3.5 Turbo, quindi avrà una nuova, anche qua, una nuova context window, e delle ottimizzazioni su performance e consumi. Poi c'è una nuova API che si chiama Assistance. Con questa API si possono creare delle AI, delle response delle AI, che sono, diciamo, cucite su specifiche istruzioni e su della conoscenza ulteriore, del contesto ulteriore che gli viene passato in input. Per esempio, delle email, dei documenti, insomma, un contesto che può essere quello di un'azienda o di una famiglia, insomma, un qualcosa che sia contestuale soltanto a quell'assistente. E inoltre, può anche avere a disposizione delle feature come il Code Interpreter, che è quello che gli permette di eseguire del codice Python, e Retrieval, che è quello naturalmente che gli permette di accedere a un, per esempio, un database, o insomma, un qualche API esterno per arricchire ulteriormente il proprio contesto. Peraltro, in queste API c'è una feature che viene chiamata Persistent and Infinitely Long Threads. Quindi sapete che i thread delle conversazioni, ecco, è possibile mandare avanti all'infinito questa conversazione continuando ad attaccare nuovi messaggi sempre alla stessa conversazione praticamente in un contesto, in un contesto infinito con il parametro thread. anche qua naturalmente c'è il Function Calling. Sul sito di OpenAI dove c'è la presentazione c'è anche un po' un filmato di cosa, di qual è la nuova interfaccia che dice la GPT Plus che consente di vedere tutti questi log, tutti questi feature sul nuovo modello. Poi c'è Vision, quindi GPT-4 Turbo ha Vision che è praticamente la feature che gli permette di riconoscere delle immagini in input e tra l'altro il riconoscimento delle immagini è magari poco pubblicizzato però in realtà è super interessante dal punto di vista dell'accessibilità e infatti c'è un'azienda che si chiama, qua viene anche citata, si chiama Be My Eyes che crea questa app mobile che permette ai non vedenti di farsi riconoscere proprio gli oggetti quello che l'app via webcam naturalmente via telecamera del cellulare sta vedendo attraverso un riconoscimento che è appunto GPT-4 Vision che è molto avanzato e questa azienda appunto crea questa app questi dispositivi e questo è un avanzamento nell'accessibilità molto molto potente cioè l'uso delle AI nel contesto dell'accessibilità è fantastico c'è un'altra feature che vado subito a elencarvi sull'accessibilità che è il text to speech quindi che permette proprio di leggere del testo con una voce molto umana con inflessioni molto umane insomma uniamo queste cose capiamo che gli usi di queste tecnologie nell'interno del contesto dell'accessibilità insomma sono davvero una figata e in più c'è dall'i3 questo mi stacco un attimino dall'accessibilità c'è dall'i3 quindi è possibile anche via API farsi generare delle immagini dai prompt di chat GPT con appunto il generatore dall'i3 poi c'è una nuova tabella di prezzi abbiamo visto che le performance permettono le ottimizzazioni permettono a GPT 4 Turbo e 3.5 Turbo di costare di meno quindi c'è una nuova tabella di prezzi e anche un rate limit alzato quindi adesso è possibile fare ancora più richieste due cose in conclusione il copyright shield quindi in pratica grazie ai potenti mezzi di OpenAI e di Microsoft peraltro Satya Nadella ha fatto capolino sul palco ieri durante la presentazione per salutare e ricordare a tutti che fate pure quello che vi piace quello che volete però ricordatevi che gli amici siamo noi e tra l'altro ha nominato molto spesso copilot ovviamente ebbene il copyright shield che cos'è è un modo per dare assistenza legale a tutti quelli che creano dei prodotti con l'AI di chat GPT qualcun altro un artista uno scrittore un qualcuno che produce del contenuto si accorge che il suo contenuto è finito dentro questi prodotti grabbato dal modello e quindi fa causa a questa app di terze parti ebbene grazie al copyright shield a sostenere le spese di questa causa sarà proprio il portafoglio di Satya Nadella di OpenAI e di Microsoft insomma questo è un po' per riassumere infine Whisper Whisper versione 3 è la terza iterazione insomma della speech recognition model di Whisper appunto quindi è il speech to text ecco in una nuova versione e in conclusione ma molto rapidamente quello che è stato chiamato GPTs con la S finale cioè vari GPT cioè ora potete andare su appunto cagpt plus se siete degli utenti paganti e crearvi il vostro GPT praticamente sapete che una delle tecniche per crearsi una un assistente diciamo personalizzato era quello di dargli del contesto iniziale che lo settassero su alcuni parametri no cioè tu sei questo sei in questo contesto ti do delle altre informazioni aggiuntive ecco personalizzo il mio il mio botta e poi inizio a parlarti e tutte queste cose tipicamente venivano copie incollate da un documento bene adesso invece attraverso anche un'interfaccia una UI quindi senza bisogno di scrivere codice o prompt anzi scrivendo prompt ma sempre in linguaggio umano quindi c'è un'interfaccia si possono scrivere i prompt in linguaggio umano e anche comporre ecco questa assistente quindi è possibile crearsi queste versioni personalizzate di GPT senza dover poi fare copia incolla ogni volta quindi avete il vostro bot personalizzato e siccome nel mondo ideale di OpenAI ognuno crea il proprio bot personalizzato ecco che hanno deciso di creare questo marketplace di GPT personalizzati quindi ecco perché GPT è un multiple di GPT e quindi ognuno può crearli metterli pubblicamente a disposizione in questo marketplace e altri li possono usare e peraltro c'è in futuro ci sarà anche una possibilità di prendersi delle fette di revenue cioè se molti se molti utenti useranno il vostro bot GPT potrete avere una fetta delle revenue che arriveranno a OpenAI dalle appunto chiamate alle API che passano per il vostro bot non è stato ancora dettagliato bene questo modello però insomma dovrebbe dovrebbe arrivare e tra l'altro queste GPT avrà insomma accesso a internet avrà accesso a API avrà accesso a informazioni contestuali che gli darete qui fanno esempi di email database documenti e queste informazioni secondo quanto dice OpenAI non saranno poi non entreranno a far parte del modello ma ci saranno delle customizzazioni a livello di privacy per proteggere questi dati in modo che che non ci entrino e poi rimane anche naturalmente l'opzione enterprise quindi gli utenti della versione enterprise rimarranno nella loro sandbox ecco e i dati sia dei loro input che dei loro contesti non verranno poi riportati nel modello non usciranno da lì insomma rimarranno a livello enterprise quindi questa è un po' la novità ecco di GPT che viene che è stata annunciata ieri quindi i multipli GPT con i bot personalizzati che magari in futuro saranno monetizzabili poi tutte le novità che abbiamo visto invece su GPT 4 Turbo 3.5 Turbo e le molte novità sull'assistenza l'accessibilità le immagini devo dire tante belle cose insomma se vi interessa blog di OpenAI e ci sono tutte queste novità prima di chiudere una nota curiosa per chi segue il mondo delle criptovalute e degli NFT se vi ricordate qualche puntata fa abbiamo parlato del declino che ormai inevitabilmente sta colpendo gli NFT i non fungible tokens che una volta sembravano essere il futuro degli scambi dei biglietti delle card insomma di tutte quelle cose che esistono una volta sola e ognuno può prenderne possesso e può comprarli tra l'altro naturalmente una grande bolla per investitori uno dei protagonisti di quella bolla è stato ed è tuttora il Bored Ape Yacht Club che è una collezione insomma con queste immagini disegnate a mano di scimmie una faccia di scimmie in vari costumi e con varie espressioni insomma Bored Ape sono una collezione di circa 10.000 NFT che hanno ottenuto un successo inspiegabile abbastanza e tra l'altro c'era anche un'integrazione mi ricordo con Twitter che permetteva di avere questa scimmia questo NFT come immagine del proprio profilo ma soltanto se l'avevi comprata quindi non ti scarichi il JPEG e lo metti nel profilo no se l'hai comprato allora lo puoi sempre scaricare e metterlo nel profilo ma ti viene riconosciuto che l'hai comprato quindi veniva messo una shape diversa insomma una cazzata del genere e insomma che succede con Bored Ape che è ancora vivo e vegeto a quanto pare ha fatto il suo evento annuale che si chiama che si chiama Ape Fest Ape Fest un evento annuale live insomma con un po' di ospiti un po' di gente ecco l'ha fatto a Hong Kong e il problema di questo evento è che molte persone la mattina dopo hanno cominciato a twittare che hanno avuto grossi problemi di salute in seguito a questo evento specialmente di bruciature sulla pelle e di perdita della vista cosa abbastanza inquietante e questo è dovuto probabilmente all'esposizione a raggi UV quindi sul palco c'erano queste luci anche in giro per l'evento queste luci con dei raggi UV potentissimi che hanno bruciato la pelle e la retina di alcuni di alcuni ospiti prendo un articolo del Guardian che ne parla ci sono varie testimonianze per esempio questo che si chiama CryptoJune su X su Twitter che scrive che si è svegliato insomma di notte dopo l'Ape Fest con un sacco di dolore agli occhi è dovuto andare all'ospedale e il dottore gli ha detto che era stato causato dai raggi UV e insomma dice che è stato a molti festival ma non ha mai sperimentato una cosa del genere e anche Adrian Zdunksic ha appunto scritto che si è svegliato con un fortissimo dolore agli occhi è andato all'ospedale ed è stato diagnosticato con fotokeratisis che è o fotokeratosi l'ho letto in inglese ma fotokeratosi dovrebbe essere una cosa una cosa del genere che è quella che è quella cosa che ti viene agli occhi quando guardi guardi hai troppe esposizioni ai raggi UV per esempio quando sei in un paesaggio completamente innevato e stai per troppo tempo in questo paesaggio completamente bianco e quindi tutti i riflessi dei raggi del sole sul bianco che ti vanno negli occhi ti creano questa questa cecità temporanea insomma infatti viene chiamata snow blindness anche agli occhi che poi passa una condizione insomma temporanea però provoca molto dolore e insomma e questo è stato è stato un po' il caso e il Bored Ape Yacht Club ha poi twittato che si hanno saputo di queste cose che dovrebbero essere limitate all'1% circa degli ospiti dell'evento insomma che comunque consigliano a tutti se percepiscono qualche sintomo di andare a farsi vedere scherzino vabbè comunque questo era un po' per questo era un po' per darvi conto ecco del fatto che Bored Ape Yacht Club è ancora vivo fa degli eventi e gli ospiti a questi a questi eventi insomma rimangono scottati dalla bellezza del palco e delle luci sul palco del Bored Ape Yacht Club e vabbè questo è ragazzi grazie ce l'ho fatta credo sia una puntata abbastanza leggera quindi vi ho dato già gli appuntamenti non ho più nient'altro da dire e che dire ci vediamo alla prossima puntata grazie per avermi seguito ciao